Non contava come si sarebbe ottenuto il risultato, l'importante oggi era portare a caso i tre punti contro l'Atalanta, prima giornata legionaria di ritorno, il Verona grazie a questi tre punti, caro Barone sale a quota 24 punti. Che partite hai visto il Vente Godi? Innanzitutto penso che oggi con il Verona siano stati tre punti di Platino. Ho visto un buon Verona che ha lottato dall'inizio e alla fine, sinceramente mi aspettavo di più dall'Atalanta, però ecco, alla fine penso che il Verona abbia meritato questa vittoria. È arrivato il primo gol nella serie a team di Xavier Saviola, un giocatore che nella prima parte di campionato ha trovato poco spazio per non dire nulla, però insomma ha dimostrato di avere ottime qualità. Beh sì, ma lui lo sappiamo, lo conosciamo tutti quanti, ha qualità importanti, è normale che giocando poco lo riesce forse a dimostrare tutto il suo valore. Io penso che lui debba fare qualche partita di seguito per prendere un po' di gamba e sono convinto che farà bene anche lui. E poi a Lucatoni bisogna fargli un monumento, insomma grandissima prestazione anche oggi. Beh, ma lui lì è un grande, veramente, lotta su tutti i palloni, anche se magari non era una giornata straordinaria per quanto riguarda il gol, però ha lottato su tutti i palloni, ha tenuto palla, ha fatto solito la squadra, quindi penso che anche quando non è in giornata è sempre importante. Adesso si va a Palermo, però sicuramente questa vittoria ci voleva, ha calmato un po' le acque, visto che insomma questa doppietta in quel di Torino aveva un attimo portato troppo malumore anche. Beh, sì, vabbè, la piazza di Verona la conosciamo, dai, o è bianco o è nero. Io penso che siano, come ho detto prima, tre punti fondamentali, anche perché penso che adesso andranno anche un po' più tranquilli a Palermo, che sarà una partita difficile, però sono convinto che con questa vittoria il Verona farà una gran partita anche a Palermo. In ultima, prima di salutarti, caro Barone, che abbiamo sempre piacere di rivederti, volevo chiederti, da ex difensore, come hai visto la difesa del Verona oggi? No, no, ma io, ripeto, l'ho vista, forse secondo tempo l'ho vista ancora meglio. Diciamo che di fronte, insomma, c'erano anche giocatori importanti, sai, perché attaccanti del genere, però penso che alla fine, insomma, abbiano rischiato poco, a parte forse gli ultimi dieci minuti della partita, però secondo me ha fatto una buona partita la difesa. Saluta tutti i tuoi ex tifosi, caro Barone. Sì, saluto tutti i miei ex tifosi, è sempre un piacere venire qui e poi, insomma, porto sempre bene, quindi, avanti così. Quindi ci vediamo col Torino anche, da buon ex. Beh, col Torino sono doppio ex, quindi verrò sicuramente.